Ciao ragazzi, eccoci finalmente con un nuovo video acquisti manga, in particolare dedicato al mese dell'offerta del Black Friday, Cyber Monday, insomma al mese di novembre in cui effettivamente un bel po' di sconti ci sono stati. Questo mese ho recuperato un po' di tutto, c'è anche qualche variant, qualche uscita giapponese interessante, quindi andiamo subito a vedere. Ed in effetti direi proprio di iniziare dalla variant di Blue Period, che effettivamente era stata preordinata ad ottobre e che è arrivata a novembre. Questa variant veramente stupenda, ve la faccio un tantino vedere, che vi ricordo essere un'esclusiva J-Pop più Manga Yo, quindi essenzialmente era reperibile solamente su Manga Yo e adesso il prezzo è molto molto elevato. Copertina bellissima, poi vabbè il manga penso lo conosciate già, è molto conosciuto, c'è l'anime adesso, che però come sapete non mi fa impazzire, il manga è decisamente meglio. Trattandosi di un'esclusiva Manga Yo vuol dire che il volume era reperibile solamente su Manga Yo per un periodo limitato di tempo, ovviamente vi ho informato su Instagram. Però sappiate che domani, domenica, ci sarà una nuova variant esclusiva in particolare di Kobayashi-san, sempre da parte di Manga Yo in collaborazione con J-Pop. Vi ricordo di utilizzare il codice sconto Arcanthos per avere il 5% di sconto su tutti gli acquisti su Manga Yo. E direi di proseguire con qualcosa del Giappone, abbiamo qui il weekly Shonen Jump 45 con dietro la cover del film di Jujutsu Kaisen e lo Shonen Jump 46 con questa cover bellissima di My Hero Academia e poi dietro c'è tipo Genshin Impact. Questi in realtà sono i miei primi Shonen Jump, che come sapete sono delle riviste giapponesi in cui sono raccolti tutti i capitoli settimanali di Shonen Jump. Sinceramente non pensavo fosse così fragile, però effettivamente essendo una rivista me lo dovevo aspettare. Ma diciamocelo, gli Shonen Jump sono soltanto prodotti da collezionare. Infatti in questo modo sono veramente belli da vedere, 45 e 46. In estate ho preso questo character book di Nino delle gemeline di quintessential quintu, perché è la mia preferita che vedete là dietro, perché appunto volevo collezionarlo. E solamente questo mese ho recuperato sia quello di Yotsuba che quello di Itsuki. Poi Yotsuba un po' in controluce, eccola qua. Mancherebbe quindi Miku e Ichika, però il problema è che io odio Ichika. E passiamo a dei manga italiani, effettivamente, cioè Rocky Jo volume 4, 5 e 6, perché sì, sto continuando Rocky Jo, in realtà però con la lettura sono ancora fermo ai primi volumi, però vorrei cominciare a prenderlo tutto, così poi me lo leggo tutto ad un fiato. Non che sarà facile, perché in realtà sono volumi belli grossi, ve l'ho detto tante volte, infatti per soli 8 euro veramente c'hanno una marea di pagine e ci vuole un bel po' per leggerne uno. Purtroppo in realtà manca un po' il tempo di leggerli. Questo è il volume 4, volume 5, volume 6 e insieme a Rocky Jo sto continuando a prendere, come sempre, i nuovi volumi di Slam Dunk. Questa volta devo dire che me ne mancano solamente due per terminarlo, perché sono 20 in totale. Questi sono il 16, 17 e il 18 e in realtà mancherebbe anche il secondo che è quasi introvabile. Volume 16, volume 17, volume 18. Qui abbiamo il cofanetto invece di King of Balls con all'interno i due volumi. Il primo già ce l'avevo, adesso anche il secondo e questa serie è completa. Non so se lo conoscete, però questo King of Balls in realtà è un euromanga, cioè un manga europeo e in particolare questo qui dovrebbe essere italiano, se non sbaglio. È molto particolare, direi quasi folle, però mi è piaciuto. In realtà la manga Senpai mi ha inviato anche Senpai Plus 2, perché c'è lo 0, c'è l'1 e questo è il secondo. Lo Shonen Jump italiano-europeo, che secondo me è straordinario, perché per soli 5 euro, 5 cazzo di euri, non solo a pagina colori, ma è un vero e proprio Shonen Jump veramente ben realizzato, con un sacco di cose al suo interno. Tante storie veramente ben fatte. In realtà, a dirla tutta, quelli sono in manga che mi sono arrivati intorno alla prima metà di novembre. Mancano quelli della seconda metà, cioè quelli del Black Friday, eccetera. E in realtà sono all'interno di quelle due scatole, che devo ancora aprire. Nel momento in cui sto registrando, in realtà andrò a farlo fra 10 minuti in live su Twitch, quindi seguitemi lì per non perdervi tutti i prossimi unboxing di pacchi manga. Quindi vado a fare la live, li apro e poi li vediamo insieme. Ok ragazzi, sono passati circa 3 ore, abbiamo finito di fare la live, ho aperto tutto, adesso vi faccio vedere per bene cosa mi è uscito. Vi ricordo, come sempre, di seguirmi su Twitch. Direi di iniziare da Devilman, il cofanetto contenente 5 volumi di Devilman, però metti a fuoco, grazie, ok. Perché ho preso Devilman? Perché è un grande classico, voglio leggerlo, ho visto ovviamente l'anime Devilman Crybaby, mi è piaciuto molto. Non so quanto mi piacerà Devilman, sapendo comunque che si tratta di un'opera molto vecchia, però in realtà non vuol dire niente, i disegni non mi fanno impazzire. Però dai, è Devilman, un'opera molto importante, quindi un'occhiata gliela devo dare, anzi lo leggerò tutto, ormai ho preso il cofanetto. Avevo valutato anche la Omnibus, ma ho chiesto a voi e mi avete detto che la Omnibus era un po' scomoda da leggere, quindi ho preferito prendere il cofanetto con tutti e 5 i volumi. Questo è il volume 1, questo è il volume 2, volume 3, volume 4 e volume 5. Questa fra l'altro è la nuova cartolina di manga io, veramente molto bella. Fra l'altro credo di aver dimenticato di mostrarvi le carte di One Piece. Rufy, Brook, Zoro, Sanji, Asop, Nami, Chopper, Nico Robin e Frankie. Dopodiché abbiamo i volumi 4, 5 e 6 di The Quintessential Quintuplets, che hanno restoccato finalmente dopo tanto tempo proprio in questi giorni. Ho già da molto tempo i primi 3 volumi, poi c'ho il 14 in giapponese, tutte le gemeline che vi ho fatto dire prima, e adesso ho appunto deciso di recuperare anche questi volumi per cercare di concludere questa serie, che in realtà ho già letto in scan perché mi hanno spoilerato, però non fa niente. E proseguiamo con Monster volume 3 di questa fantastica edizione, veramente bellissima, sembra un quadro letteralmente. Il secondo purtroppo non era disponibile, però il primo già ce l'avevo, l'ho preso il mese scorso. Ma non è finita qui perché abbiamo il volume 4, il volume 5, il volume 6 e il 7. Ce ne mancano altri due, però anche il secondo, quindi in realtà 3. Tra l'altro che coincidenza, mi manca il secondo di Slam Dunk come mi manca il secondo di Monster, questi volumi 2 sono sempre introvabili. Con questo credo sia tutto, io vi ricordo come sempre che se volete supportarmi e avere il 5% di sconto su Manga.io, utilizzate il codice sconto ARCAN. Lasciate quindi un mi piace, seguitemi sui vari social, specialmente su Instagram per restare aggiornati su tutte queste notizie, ma soprattutto anche sui prossimi restock, nuove uscite, il fatto della variant, perché questa nuova variant sarà preordinabile a partire dal 5 dicembre alle ore 15, ma in realtà nonostante si dica a partire da, sappiamo già tutti che finirà subito. Quindi niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!